Hola! Siete pronti per un altro video tecnico? Guardate cos'ho! Sapete cosa sono questi? Questi sono solo una piccola parte dei dati che la centralina Motech della moto di Luca ha registrato durante la gara del Mugello. E sapete perché vi faccio vedere? Se ricordate, dopo gara 1 entra nei box di Luca Simone, Saltarelli, e entrambi parlano del problema che hanno avuto intorno a metà gara sul feeling sulla ruota anteriore. E quello che pensano è che si è salita troppo la pressione. E indovinate un po', guardate il grafico, guardate qui, effettivamente la temperatura è salita in maniera anomala e quindi anche la pressione e questa cosa qua può dare un feeling non tanto buono sulla moto. Facciamo chiarezza, guardate il grafico, partiamo dall'alto, pressione della gomma anteriore, temperatura della gomma anteriore, pressione della gomma posteriore e temperatura della gomma posteriore. Le linee rosse verticali sono ogni singolo giro, dall'inizio alla fine, ed effettivamente in gara 1 c'è stato questo problema qui, perché Luca partiva decimo, le temperature quella giornata erano particolarmente alte, 30 gradi d'aria e quasi 50 d'asfalto, e stando nel gruppetto delle 4 onda per quasi tutta la gara, sicuramente per i primi 6-7 giri, si vede che la temperatura aumenta in maniera repentina, perché rimanendo in scia non prende aria fresca, la temperatura della gomma è salita e quindi anche la pressione, ed è arrivata fino a 2,61 bar. Le pressioni di dall'op sono 2,4, massimo 2,45 sull'anteriore, quindi avere 0,2 in più può generare problemi di feeling sull'anteriore come hanno lamentato. Perché è successo questo? Un team non può prevedere come fa la gara il pilota, può farla in solitaria davanti o stare nel gruppetto, quindi è andata così e la cosa interessante si vede che dopo il settimo giro la temperatura cala e anche la pressione perché vanno di pari passo, questo perché per 3-4 giri Luca è riuscito a sopravvanzare Russo e Saltarelli e quindi essere il primo delle 4 onda di quel gruppetto e ricevere aria fresca davanti alla gomma anteriore ed effettivamente la temperatura è scesa a livelli più diciamo normali e la pressione l'ha seguita. Poi dopo gli ultimi due giri è stato sopravvanzato di nuovo da Saltarelli, Russo e Gabellini, quindi era l'ultimo delle 4 onda e si vede la temperatura risalire e quindi anche la pressione. Detto questo poi per gara 2 il team ha preso delle contromisure ovviamente, anche perché le temperature la domenica erano più alte, 32 gradi d'aria e 50 ad asfalto, quindi dovevano fare qualcosa altrimenti si incorrevano lo stesso problema. E cosa hanno fatto? Hanno deciso di aumentare la temperatura delle termo e quindi della gomma e fare la pressione a una temperatura più alta. Perché questo? Perché più ci si riesce ad avvicinare alla temperatura di esercizio in gara, più si riesce a prevedere la variazione di pressione. Perché ovviamente se io parto con una temperatura a freddo della gomma e poi vado a una temperatura calda avrò una differenza di pressione, un aumento di pressione maggiore. Se invece riesco a avvicinarmi il più possibile alla temperatura di esercizio, l'aumento di pressione della gomma derivante sarà minore. Quindi aumentano la temperatura delle termo, arrivano con 10 gradi in più di gomma e 0,04 in meno di pressione. Io questo non lo sapevo, comunque loro partono sempre con una pressione leggermente più bassa, si parla di 0,02, 0,03 di quella che serve. Perché ovviamente in gara rispetto a quando il pilota arriva in griglia la temperatura delle gomme è comunque più alta. Soprattutto dell'anteriore perché il posteriore montandolo direttamente in griglia riescono ad averlo già a una temperatura corretta. Mentre l'anteriore lo montano ai box e il pilota deve fare il giro di schieramento e a seconda di come fa il giro di schieramento, che temperatura c'è, quanto vento c'è, arriva in griglia sempre con una temperatura e una pressione diversa. Quindi poi in griglia devono fare degli aggiustamenti. Se ci fate caso i meccanici controllano la pressione almeno sempre due volte. L'elettronico quando attacca il computer una delle prime cose che fa è controllare la temperatura della gomma e quindi la pressione e fare eventuali aggiustamenti. Quindi per gara 2 decidono di partire con 70 gradi anziché 60, come il sabato, e una pressione di 0,04 o più bassa, 2,31. E non possono scendere troppo perché dopo se hanno una pressione troppo bassa il pilota si lamenta perché ovviamente la gomma è sgonfia. Ed effettivamente in gara 2, facendo pure una gara simile dietro ad altri piloti, la temperatura ma soprattutto la pressione è molto più costante. Per quasi tutta la gara rientra tra i 2,4 e i 2,45 solo per un breve momento sale fino a 2,5. Però rispetto a gara 1 la pressione è molto più costante ed infatti Luca non ha più lamentato quel problema. E voi vi direte perché il posteriore non ha avuto questi problemi? Il posteriore segue le stesse logiche però essendo coperta dall'aria fresca la ruota la sua variazione di temperatura è molto più bassa quindi è più prevedibile la temperatura e la pressione di volta in volta e a differenza dalla gomma anteriore in cui non si può prevedere se il pilota farà una gara in solitaria oppure dietro al gruppone. Il video è finito, spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo!